Cristiano Malgioglio, noto cantautore e paroliere, ha scritto pagine importanti nella storia della musica italiana. Nel corso degli anni, ha costruito non solo una carriera musicale di successo, ma si è anche affermato nel mondo televisivo, conquistando il pubblico di diverse generazioni, compresi i più giovani. Dopo un periodo in cui è stato meno presente in televisione, Malgioglio è riuscito a rinnovare il suo successo grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Durante un'intervista recente, Cristiano Malgioglio ha raccontato di un terribile dramma che ha segnato la sua vita e ha fatto riflettere su tutto ciò che aveva costruito. È successo tutto per caso. Mentre si spalmava la crema sulle gambe, ha notato un neo che non aveva mai visto prima. Questa scoperta improvvisa lo ha immediatamente allarmato. Successivi esami hanno confermato i suoi timori. C'era qualcosa che non andava e ulteriori analisi hanno rivelato la verità. Per caso ho scoperto di avere un tumore maligno. Mentre mi spalmavo la crema, ho notato il neo. Non lo faccio mai, ma per qualche motivo mi sono fatto controllare. I medici hanno deciso di operarmi immediatamente, dicendo che altrimenti avrei avuto solo pochi mesi di vita, ha raccontato Malgioglio durante l'intervista. Il cantante ha sottolineato il terrore che questa scoperta ha generato nei suoi fan, un racconto che ha mandato brividi lungo la schiena di tutti. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo dei medici, la situazione è stata risolta e oggi Malgioglio può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Tuttavia, la paura che ha vissuto è stata immensa. La situazione avrebbe potuto diventare irreversibile. Ancora una volta, si dimostra quanto sia fondamentale la prevenzione. Questa esperienza ha segnato profondamente Cristiano Malgioglio, che ha deciso di condividere la sua storia con il pubblico per sensibilizzare sulle malattie e sull'importanza di fare controlli regolari. Oltre ad essere un artista di talento, Malgioglio si è trasformato in un esempio di coraggio e determinazione, ispirando tutti coloro che hanno seguito la sua carriera e che ora apprezzano ancora di più la sua straordinaria forza interiore. Prima di concludere, vorremmo ringraziarti per la visione del nostro video e invitarti a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per ricevere aggiornamenti sulle ultime notizie e curiosità. Sarà un modo per rimanere sempre aggiornato su eventi di grande rilevanza come questo. Inoltre, apprezziamo molto i tuoi commenti e feedback, quindi non esitare a lasciare un commento qui sotto con la tua opinione. Grazie per il tuo supporto.